Buonasera a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMF News, come sempre tanti argomenti da affrontare, si avvicina la finale dei campionati europei tra Spagna e Inghilterra e allora ne parliamo subito, saluto Tommaso Borghini qui accanto a me. Ciao Lorenzo, buonasera a tutti. Spagna e Inghilterra è il meglio che questi campionati europei potessero offrire? Alla fine di un torneo così ristretto nei tempi, poi alla fine dire che sempre il meglio è difficile perché ci sono tanti fattori che influenzano poi questo tipo di competizioni appunto così concentrate, lo stato di forma dei giocatori, i possibili infortuni, lo stato anche mentale di alcune compagini rispetto ad altre, però alla fine probabilmente per quello che abbiamo visto, certamente per la Spagna ritengo che sia la formazione che ha mostrato il miglior calcio. Ho visto un'Inghilterra un pochino più zoppicante sotto il profilo del gioco, un po' anche fortunata per la verità, per l'esito della partita della semifinale con l'Olanda e quindi ecco se dovessi dire chi in questo momento è più in forma proprio mentalmente, psicologicamente, fisicamente ritengo che la Spagna sia nettamente favorita per quanto riguarda la finale. E al di là dell'Italia qual è stata a tuo parere la grande delusione di questi campionati europei? Si è parlato molto della Francia, una Francia che viene criticata anche il suo allenatore al centro di tante polemiche, il gioco, la qualità del gioco che non è stata così elevata. Come si fa a non dire la Francia? È impossibile per il talento che ha in squadra la Francia e il fatto che comunque abbia lasciato in maniera piuttosto mesta questi europei con la sfortuna probabilmente di aver incontrato la Spagna in semifinale perché la vera finale probabilmente doveva essere proprio questa tra Spagna e Francia, però credo che insomma il talento che ha a disposizione Deschamps non sia stato utilizzato nella maniera migliore da parte del CT, probabilmente non solo per colpe sue, probabilmente anche per il cattivo stato di forma, dicevamo prima in questo momento di alcuni dei suoi giocatori cardine, poi Mbappé influenzato dal fatto di essersi fratturato il naso e quindi dover giocare con questa maschera che sembra sia stata un grosso limite per lui, ma anche insomma con tutto il talento che ha a disposizione ecco, vederla uscire in quel modo lì in maniera secondo me meritata nonostante avesse trovato il vantaggio c'è poco da dire, è la delusione più grande e certamente mi stupisce un po' insomma il fatto che invece Deschamps sia stato confermato sulla panchina della Francia, evidentemente sono contenti così. C'era chi invocava come CT Zidane, Zidane che comincia ad essere fermo ormai da qualche anno. Sì, Zidane che aveva fatto comunque molto bene quando è stato chiamato in causa come allenatore, io sinceramente dopo tanti anni avrei dato una svolta, sarebbe stato un rinnovamento dal punto di vista dell'età del commissario tecnico quanto probabilmente delle idee e quindi l'avrei senz'altro fatto come è mossa anche per ridare un po' di entusiasmo diciamo così ai componenti della squadra. Il fatto di aver confermato Deschamps probabilmente non so quanto effetto benefico avrà su questa Francia che mi sembra sia appunto vittima anche del fatto che molti giocatori sono forse troppo coccolati, troppo strapagati dai propri club, non abbiano ecco quella fame in nazionale che ci si aspetta da loro. Il mercato adesso, qual è stata la squadra, stiamo parlando della Serie A naturalmente che ti ha colpito di più per le operazioni che ha messo a segno, non che ci sia stata fino a questo momento una squadra che possa stagliarsi tra le altre per il numero di operazioni concluse, però comunque qualche affare è stato concluso anche interessante. Sì, allora diciamo appunto hai detto bene, non è che ci siano stati compiuti i colpi da strapparsi i capelli per adesso nel calcio italiano e questo è anche il termometro della situazione che stiamo vivendo purtroppo nel nostro calcio. Diciamo allora molto importante è stato il colpo in panchina del Napoli, il colpo in panchina un colpo, cioè un colpo da 90 stato fatto dalla società di De Laurentiis e quindi lui e Conte può fare la differenza, può veramente riportare il Napoli ad essere una delle pretendenti allo scudetto. Per quanto riguarda poi il mercato per adesso qualche cosa di buono è stata fatta, soprattutto in difesa e credo che tutto dipenderà poi dall'affare, dalla questione Ozyman, da che tipo di attaccante arriverà, però insomma mi sembra che il Napoli sia con l'allenatore già sulla buona strada. Per le altre squadre stanno lavorando tutte insomma un pochino a risparmio mi sembra, la Juventus chiaramente altro colpo in panchina perché Tiago Motta è il grande emergente degli allenatori emersi appunto dal campionato italiano ma direi anche a livello europeo, sta cambiando tanto, sta rivoluzionando tanto, bisognerà vedere giuntoli quello che riuscirà a fare, mi sembra che adesso un po' la chiave di volta sia diventata la cessione di Soule che potrà dare alla Juventus quei denari necessari per poter aggredire altri giocatori, è stato già fatto molto a centrocampo anche se si punta con Miners, vedremo quello che si riuscirà a fare. Poi per le altre squadre a me sembra che si stia muovendo discretamente bene anche nonostante la perdita di alcuni giocatori e nonostante ci sia una grande contestazione in atto anche la Lazio che è andata a prendere dei giocatori interessanti come potenzialità mi sembra, è un allenatore che io giudico che meriti la chance finalmente di allenare Diciamo che si è guadagnata sul campo questa chance Marco Baroni che nel corso della presentazione dal nuovo allenatore della Lazio ha sottolineato come questo sia il punto più alto della sua carriera in effetti perché comunque è sempre stato protagonista in squadre di medio-bassa classifica però anche con quello è riuscito ad ottenere grandi risultati, ricordiamo quello che ha fatto con il Lecce, l'ha portato in Serie A, è riuscito a salvarlo, è riuscito a salvare l'anno scorso il Verona dopo che a gennaio nessuno avrebbe probabilmente scommesso un euro sulla permanenza in Serie A da parte dei Veneti visto quello che è successo quando è stata a gennaio proprio smantellata la squadra, è stata di fatto ricostruita una squadra nuova e Baroni nonostante questo è riuscito molto velocemente a plasmare il gruppo e a dare un indirizzo preciso ai suoi giocatori a ottenere questa salvezza che sembrava assolutamente irraggiungibile e quindi si è meritato sul campo questa chance, adesso deve fronteggiare una situazione difficile soprattutto a livello ambientale Sarà quello probabilmente l'ostacolo maggiore, dovrà dimostrare di essere appunto un allenatore che ha l'esperienza per sostenere un ambiente complesso come quello che c'è a Roma Sponda Laziale. Per quanto riguarda il Milan anche in questo caso c'è un nuovo allenatore Fonseca e prosegue la ricerca del centro avanti, Morata è uno degli obiettivi più caldi, ci si chiede se effettivamente questo giocatore possa essere in grado di far fare un notevole salto di qualità perché Morata è un bomber? Probabilmente no. Probabilmente no, poi tu cerchi Zirze come era l'obiettivo principale del Milan e poi devi tra virgolette ripiegare su Morata è chiaramente qualcosa di estremamente diverso proprio anche non tanto sul piano dei gol perché Zirze non è un super bomber ma sul piano della capacità di questo giocatore di legare con la squadra, di muoversi, di ricevere il pallone, sappiamo tutti quali sono le qualità. Morata è un giocatore completamente diverso comunque ritengo che nell'attuale campionato italiano che non eccelle per valori tecnici un giocatore come Morata possa ancora dare molto sotto il profilo della capacità anche realizzativa e quindi abbiamo visto fare per esempio a Giroud che più di 36 anni, 37 anni se non sbaglio fare molti gol in questo biennio al Milan e credo che anche Morata possa farne tanti e quindi diciamo che è tutto ruota intorno a questa capacità insomma che avrà del Milan di arrivare su un giocatore di spessore là davanti. Ho letto anche curiosamente che Fonseca sta blindando i campi di allenamento per non far vedere diciamo ciò che non so che tipo di grandi allenamenti rivoluzionari avrà in mente, un qualche cosa che per esempio io ricordo addirittura negli anni, i primi anni 2000 fatto da Fatih Terim che era allenatore della Fiorentina all'epoca e poi è diventato anche allenatore del Milan stesso. Vedremo quindi se questo allenatore riuscirà a prendere in mano subito la squadra e a far rendere al meglio i calciatori rossoneri. Tra le squadre che saranno impegnate la prossima stagione in Champions c'è anche il Bologna, il Bologna che in questo momento è alle prese con una campagna acquisti molto delicata perché ci saranno le partenze di Zirk Zee e di Calafiori, sono stati acquistati alcuni calciatori, Cambiaghi, Olm che però non sembrano quei calciatori propriamente da Champions. Esatto e sorprende un po' il fatto che sia in difficoltà il Bologna perché sappiamo che a livello dirigenziale con Sartori è all'eccellenza, però è ovvio che la difficoltà quando perdi i giocatori che hai citato te, nonostante gli introiti finanziari siano notevoli anche se ci sono poi i diritti delle altre squadre che comunque incideranno sulla cessione, però diciamo che è ovvio che non è semplice andare a rimpiazzare i giocatori del genere. È curioso il fatto che molte squadre italiane stiano cercando il centravanti, c'è anche la Fiorentina per esempio, abbiamo parlato del Milan, lo stesso Napoli sarà ceduto Simen, insomma c'è la caccia all'attaccante, al centravanti, al bomber che contraddistingue un po' tutte, significa che insomma qui in Italia c'è poco da quel punto di vista, non sarà semplice per il Bologna colmare questa falla aperta, soprattutto la cessione di Zirk Zee ed è curioso il fatto che anche Vincenzo Italiano che da quando è stato ceduto Blauvic alla Fiorentina è sempre andato alla ricerca di un bomber importante, stia continuando la sua ricerca nonostante abbia cambiato la squadra. Eh sì, Italiano che si troverà ad un compito, dovrà affrontare un compito abbastanza difficile perché arrivare dopo Tiago Motta sarebbe difficile per chiunque, ma per lui in particolare visto che comunque dovrà provare a confermare i risultati della Bologna dell'anno scorso, almeno in campionato, con il Champions chiaro se la giocherà e dovrà fare i conti anche con un palcoscenico diverso per il Bologna, Bologna che torna a giocare a una competizione così importante dopo tantissimi anni. Eh sì, tantissimi anni e poi una competizione che non perdona, non perdona gli errori, non perdona le ingenuità tattiche che in parte abbiamo visto commettere da Italiano nel suo percorso alla Fiorentina che è stato ottimo perché ha portato alle finali, lo sappiamo e alcune perse veramente per un'inezia ma anche perse a volte proprio per delle ingenuità tattiche che commesse in conference ti hanno nel percorso, sei riuscito a rimediare, in Champions è molto diverso, insomma ti puniscono alla prima occasione, quindi ci sarà da prestare molto attenzione all'atteggiamento soprattutto difensivo da parte di Italiano del Bologna. Che cosa ti aspetta invece dalla prossima stagione da parte dell'Atalanta? Atalanta che deve fare i conti con la possibile cessione di Cup Miners, un obiettivo serio della Juventus, Atalanta che ha ceduto Cambiaghi per circa 12 milioni con l'introito di questa cifra, sembra voler dare l'assalto definitivo a Brescianini, giocatore del Frosinone che piace, piaceva anche ad altri club, la Fiorentina, la Lazio, il Napoli, sono giocatori interessanti, giocatore che in questo momento sembra essere in pole position per l'Atalanta. L'Atalanta è una società che può tranquillamente, diciamo, cioè che può affrontare con tranquillità il mercato, perché sì è vero ci sarà l'assalto per Cup Miners, mi sembra però che per adesso la distanza, se pensiamo alla Juventus, tra la domanda e l'offerta sia notevole e quindi vedremo quello che accadrà, se poi su Cup Miners non si faranno sotto altre società magari inglesi che possono avere un portafoglio addirittura molto più importante rispetto a quello della Juventus, quello lo vedremo. Però l'Atalanta non ha grande bisogno di vendere e quindi ha sicuramente già pronte delle soluzioni, leggevo anche di questo centrocampista del Celtic di nazionalità danese che insomma sarebbe già pronto nel caso di cessione di Cup Miners e che rappresenterebbe insomma un'alternativa anche molto importante come punto di vista della prolificità, prolificità sottoporta nonostante sia centrocampista e quindi insomma mi sembra che stiano affrontando il mercato, di ripeto, con grande tranquillità, ci sarà la possibilità quindi avranno grandi introiti anche dalle competizioni internazionali, dalla competizione internazionale a cui parteciperanno quindi insomma mi sembra una società che possa muoversi con tranquillità. Vedremo quello che accadrà perché è chiaro che cedere Cup Miners potrebbe dare a quel punto all'Atalanta una forza economica ulteriore e anche la necessità però di colmare l'eventuale partenza del giocatore fondamentale. Ci sono invece vari punti interrogativi sulla Roma, sul mercato che sta portando avanti, c'è un nuovo direttore sportivo, sono sì stati conclusi alcuni acquisti però ecco non si vede o non si vede all'orizzonte quel colpo che possa accendere una piazza che ha sempre grande entusiasmo, lo ha dimostrato in questi anni riempiendo sempre l'Olimpico, quel colpo insomma da poter far smuovere le folle no? Eh sì, infatti la Roma sta un po' vivendo, continuando a vivere questa difficoltà che già in parte era stata vissuta anche nella scorsa estate insomma che poi si piazzò all'ultimo momento il colpo Lukaku che riaccese gli entusiasmi no? Però fu un colpo diciamo destinato a come abbiamo visto insomma a durare lo spazio di un anno mentre la Roma probabilmente avrebbe bisogno di investimenti durevoli nel tempo di progettazione calcistica che consenta di formare un gruppo poi per affrontare, per migliorare ulteriormente la classifica e dare comunque stabilità alla corsa, alla Champions della Roma, ecco questo mi sembra che stia mancando, è arrivato qualcosa però ecco niente di trascendentale e deve quindi insomma è una società che dovrà lavorare molto sul mercato. A proposito invece di quelle società che devono rinforzarsi, devono ripartire con un nuovo tecnico, il Torino, il Torino che ha la necessità di sostituire Buongiorno che è stato il punto fisso in questi anni della difesa Grananta, è passato al Napoli e quindi sostituire un giocatore di questo genere non è semplice, non sarebbe semplice per nessuno però al tempo stesso c'è anche una bella cifra da poter utilizzare. Sì, non mancano gli introiti al Torino in questo caso, bisognerà vedere come ci si intende muovere e dove si intendono di rottare i maggiori investimenti, chiaramente l'allenatore è un allenatore che ha dimostrato in Serie B di sapere il fatto suo, quindi certamente non sarà però un allenatore che pretenderà moltissimo alla sua prima stagione in Serie A, quindi vedremo che tipo di mercato farà il Torino, certo è che anche lì ci sarebbe bisogno di maggiore progettualità dal punto di vista nella costruzione della Rosa, un problema che anche i tifosi del Torino lamentano da tempo in una gestione che ovviamente è pluriennale ma che non sta portando ai risultati sperati, l'assenza in Europa del Torino è qualcosa che si protrae da troppo tempo e probabilmente sarebbe l'ora di costruire una squadra in grado di provarci quantomeno, di arrivare fino alla fine nella lotta per l'Europa, quest'anno la sfiorata ma alla fine ha mollato sul finale, quindi c'è bisogno di migliorare, la sessione di buongiorno chiaramente sarà molto complessa perché tra avere e non avere un difensore del genere ce ne corre tanto. Del resto viene anche definito da più parti il miglior centrale italiano in questo momento al di là del fatto che non sia stato titolare nella nostra nazionale ma insieme a Calafiori è probabilmente il giocatore su cui dover affondare la nazionale del futuro. Parlando invece di allenatori incuriosisce Nesta che ha la prima esperienza in Serie A, è stato scelto dal Monza come sostituto di Palladino, Nesta reduce dall'esperienza alla Reggiana, ha lavorato in Serie B con varie squadre, non sempre ha entusiasmato diciamoci la verità. Sì sai non sempre il sillogismo fra il grande giocatore e il grande allenatore funziona, qui parliamo di un grandissimo giocatore, te parlavi dei difensori oggi su cui fondare la nazionale con tutto il rispetto per Buongiorno e Calafiori, pensa che all'epoca avevamo Nesta e Cannavaro e quindi insomma era un altro, tutta un'altra situazione. Nesta e Cannavaro proprio che hanno scelto la strada per esempio di fare agli allenatori e che però diciamo in parte non li ha proiettati immediatamente ecco nei grandi palcoscenici, hanno soprattutto Nesta ha fatto anche comunque della gavetta che penso potrà essere molto importante per il suo, la sua formazione di allenatore. Adesso ha questa grande chance è in una società che comunque non ha ambizioni fortissime ma che ti fa lavorare, che ti protegge perché c'è un, insomma sappiamo tutti i gagliani quanto riesca a proteggere gli allenatori, abbiamo visto la parabola che ha fatto Palladino per esempio in due anni adesso diciamo ha spiccato tra virgolette il volo e potrà misurarsi in una piazza più importante come quella di Firenze e quindi per Nesta è l'ambiente ideale dove crescere, dove imporsi come allenatore. Quindi se lo farà a Monza è il momento di farlo altrimenti insomma la sua carriera potrebbe prendere una piega diversa. Insomma sì, sicuramente è l'ambiente ideale anche perché poi non ci sono grandissime pressioni e quindi può lavorare con una certa tranquillità e poi come dicevi certamente anche con l'ausilio, il supporto di un dirigente navigato, dirigente di grande esperienza, di grande acutezza come Adriano Gagliani. Sì assolutamente, è credo quella la forza del Monza in generale è poter contare su questa esperienza, su questo bagaglio culturale calcistico quasi illimitato che un dirigente, un direttore come Gagliani ti può fornire e ripeto penso che Nesta abbia fatto la scelta giusta e vedremo se il Monza ha fatto anche il Monza la scelta giusta puntando su di lui, su un allenatore che è stato un grande giocatore ma che deve ancora dimostrare di poter diventare un grande allenatore. Siamo ai saluti, grazie a Tommaso Borghini. Grazie a te. Grazie a tutti voi per averci seguito, buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.